Non avremmo voluto parlare di nuovo della strada variante di Pagani, una variante che porta gli automobilisti da nord a sud e viceversa all'ingresso della città di San D'Alfonso. Ripetiamo, non avremmo voluto riprendere le immagini della strada con ai lati cumuli di immondizia, erbacce e rovi che invadendo lo spazio dei marciapiedi creano problemi ad eventuali cittadini che si portano sulla variante per una passeggiata o anche per praticare footing per motivi di salute o anche per semplice diletto o anche ancora per pratica sportiva. Ci chiediamo e chiediamo ai responsabili del servizio igiene e agli amministratori ma è mai possibile che uno degli ingressi della città sia tenuto in uno stato di degrado come quello che vi stiamo mostrando con le nostre immagini prodotte proprio in mattinata? Al sindaco e agli assessori ed anche ai responsabili del servizio igiene chiediamo, ma vi capita di vedere ciò che vediamo noi e che stiamo mostrando? Non sorge in voi un sentimento di rabbia nel vedere queste scene che mostrano solamente erbacce ed immondizia all'ingresso della città? Non sono critiche le nostre immagini e le nostre parole, ma sono parole che vorrebbero far rappresentare la città in maniera più pulita e consentiteci in maniera più dignitosa.